Partiti Prima campana a meno 46, prima eliminazione a meno 45 E' Daniel Miano che si porta in testa con Bramante, ora lastigere il pattino Tutti attaccati alla stazionata, non c'entrava nemmeno uno spillo Alla stazionata, la balaustra, l'ordine alla balaustra E allora stazionata con un telefono Huawei con la cover gialla Può essere ritirato al tavolo della segreteria Intanto c'è stato il suono della campana Entriamo nel vivo della gara con la prima eliminazione Ciao Numero 52 Per taglio di percorso Al passaggio campana di 1.44 Con l'atleta della giurra patinaggio-corsa Grandescio in testa Numero 8 267 L'atleta che deve alzarsi Campana di 1.42 Eliminazione di meno 41 al passaggio Tutti lì, tutti lì C'è una caduta Numero 8 Numero 8 Campana di meno 40 Ho sentito un rumore di qualcuno Che, non so, ha toccato La balaustra Si schiacciano tutti via la balaustra Non mi fa l'impressione Numero 267 L'atleta che deve rialzarsi Viaggiano veramente forte Campana di meno 38 Gara Sostenuta Ritmo 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 Ho ancora lì Che c'entrano tutti Posto Dove il posto non c'è Eliminazione di meno 37 6-1-7 6-1-7 6-1-7 7-1-7 L'atleta che deve rialzarsi Numero 94 Entra in diffida E intanto Marison Si porta in testa al gruppo Non lo avevamo visto finora Era la scorsa della pancia del gruppo L'atleta che ieri ha vinto il titolo italiano Nella gara a punti 9-3 L'atleta che viene eliminato al passaggio Campana Di meno 34 Al passaggio Eliminazione di meno 33 94 159 Ammonito Ecco la testa del gruppo Piombare sull'arrivo Campana Dei meno 32 Con Matteo Barison In testa Oraniero Bramante Nelle prime posizioni Al passaggio Eliminazione di meno 31 212 Rialza L'atleta Della Monica 2 C'è un problema Forse con il patino Per L'atleta Del Vittoria Torino Siamo Siamo all'eliminazione Del 29 Verso 1 In giro Ed è proprio Lui Il numero 83 Mentre Il Grimbo Banda sulla curva 159 Entra in Diffida Campana Di meno 28 Paginetti C'è una caduta C'è una caduta Vengalo Qui si rialza E qui Resta qui Sono rialzati tutti Quindi Quindi Busta Libera Saltano Due Eliminazioni Saltano Due Eliminazioni Campana A meno 24 Saltano Due Eliminazioni Vediamo Se Tornano Sulla Cora Del Grupo Gli Atleti Coinconti Nella Caduta Ma 273 Non Unito Gli Amora Gli Atleti Dietro E' Faticoso Tornare Sul Gruppo Che Continua Nella Sua Azione Campana Con Bramante Miero 258 Ammonito 43 Ammonito Siamo Siamo Alla Eliminazione Di Meno 23 Ed è Il Numero 18 Un 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 Lai Arditte Campana Di 22 Con In testa Un gruppo Giuseppe Bramante Poi Angeletti Poi Miero Poi La Rosa Poi Cannoni Poi Stigli Appretti Nelle Prime Posizioni Eliminazione 291 Il Il Tange 988 Entra In Difida 188 Edimigato E Daniero In testa Gruppo Con Angeletti All'esterno Nella Giuletti Bramante Poi Cannoni Eliminazione 6 2 8 L'atleta Di Roma 7 Che Era Rimasto Poi Volto Nella Caduta Deve Rialzarsi Intanto Siamo Alla Campana Di Meno 18 Con Angeletti In testa Al Gruppo Oraniero Martina Niero Da una Bella Sversata Al Gruppo Numero 159 159 973 973 È l'atleta Eliminato 970 Abbonito Siamo 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 Al passaggio Mattia 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 Mentre Testa Gruppo Angeletti Al passaggio Al passaggio Siamo Meno 12 302 Ammonito Ancora Ammonito Ed eccoci Ed eccoci Ai Meno 10 Ultimi Mille Metri È stata Una gara Velocissima Siamo A 12 Minuti Di Gara In questo Momento Con Bramante Il testa Al gruppo Eliminazione Di Meno 9 970 Numero 43 Entra In sfida Siamo Alla Campana Nel 8 Con Cleventoni Giero Bramante Cannoni Pedon È un Aero Barison Che Dalla Sforzata È un Aero Dei Parti Lattoni Spirea 302 Eliminato Barison Questa volta Lo lasciano Andar via Con i piedi Va a chiudere Il buco Subito Bramante Barison Bramante Miero Cleventoni Cannoni Ed è ora Miero Che lancia Buonissimo Una natura 6 5 4 Avrei voluto Rire Lui Lui Lo sprint Lo sprint Manca Ancora Troppo Ha dato Una bella Rasoiata All'atleta Della Notica Militare Eliminazione Eliminazione Al passaggio 3 2 1 Abbiamo sentito La campana Nero 4 Abbiamo sentito La campana Nero 4 E' con il numero Che si ripresenta Nero 3 Eliminato Il 258 Ed è ora Petone Che si lancia In testa Con Bramante Cannoni Miero Cleventoni 605 Eliminato Andiamo in testa Con Altra Ancora Cannoni Miero Viene Cleventoni Bravante Bravante Miero Cannoni Provence Bravante Miero Cannoni C'è un dato Tanto 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 Che segue Madonna Gravante Giuseppe Bravante